Devo dirvi la verità, è un pochettino triste perché è domenica, è il giorno della settimana in cui si è riposato anche il Signore, ma oggi si riposa pure la Juventus, nel senso che abbiamo giocato giovedì in Europa League e quindi la prossima partita sarà spostata in avanti nel tempo. Il derby è fissato per martedì, martedì solitamente non è un giorno da calcio di Serie A, è un giorno un po' bizzarro, un po' particolare al quale solitamente non siamo abituati, però dobbiamo fare di necessità virtù, di solito il sabato se lo prendiamo per la conferenza stampa, la domenica iniziamo a fare a quest'ora i video in cui ragioniamo sulla formazione, sarà un po' difficile iniziare a ragionare sulla formazione adesso proprio perché ci sono altri elementi di mezzo, può ancora succedere di tutto e perché magari alcuni giocatori potranno recuperare o chissà, altri potranno fermarsi, non sarebbe no la prima volta che ci si ritrova poi di fronte a certe notizie, certe situazioni. Quindi no, non gioca la Juventus oggi, una giornata un pochino triste per quanto mi riguarda da tifoso perché solitamente il fine settimana mi piace dedicarlo almeno per un paio d'ore al calcio giocato della mia squadra del cuore, questa volta non sarà così. E c'ho già il senso di smarrimento per quanto riguarda la Juve, mi dispiace non vedere giocare la Juve questo weekend, però magari se non sapete cosa fare io vi ricordo che abbiamo fatto uscire sul canale di Tutti i Teori c'è anche un video insieme a Seba Frey, molto bello, molto simpatico, molto discorsivo e divertente. Secondo me, quindi vi consiglio assolutamente di andarvelo a vedere, in questa puntata saremo solo io e Seacolf, Luca Mastrangelo non c'era, quindi un'occasione in più, no, non c'è Mastrangelo, un'occasione in più per andare a vedere il video che sicuramente già per l'assenza di Mastrangelo è più bello. Ok, allora ragazzi facciamo due chiacchiere perché ieri comunque c'è stato un allenamento della Juventus a porte aperte su invito, erano presenti alcuni giornalisti e Chiesa e Pogba hanno iniziato l'allenamento in gruppo e quindi si presuppone che Chiesa e Pogba possano addirittura essere convocati per la Ciudad Coltorino. È per quello che vi dicevo, fare la probabile formazione adesso penso proprio che non abbia minimamente senso perché Chiesa e Pogba non sa neanche se verranno convocati e quindi in base a questo poi anche Allegri dovrà fare delle scelte. Attenzione, non significa che Chiesa e Pogba possano essere inseriti in balottaggio o almeno io mi aspetto di no, addirittura vado cauto sulla convocazione di Pogba. Pogba, figuratevi se posso parlarvi di un Pogba titolare o il fatto di aspettarsi un Pogba titolare, per me no, sarebbe anche un po' una mezza follia, però in caso di convocazione anche Allegri l'altro giorno ha ribadito quando un giocatore è convocato e perché ha disposizione di in grado di giocare la partita, quindi in caso di convocazione potrebbe esserci finalmente questo esordio bis di Paul Pogba con la maglia della Juventus. Non sarebbe affatto male anche perché ormai siamo praticamente a marzo e dato che Pogba è tornato tra giugno e luglio, ora non ricordo esattamente il momento ufficiale alla Juve. Si è preso il suo tempo, diciamo così, lo aspettiamo perché è assolutamente un giocatore che potrà darci tanto, ha maggior ragione in questo momento in cui a centrocampo le cose funzionano molto bene con i titolari e siamo fortunati di avere comunque i tre titolari in questo momento a disposizione. Il centrocampo secondo me è allestito in un buona maniera. Per quanto riguarda invece le sostituzioni, beh, le sostituzioni c'è soltanto Paredes, no? In questo momento dato che Miletti è fuori per infortunio, Pogba è fuori, McKenney è stato ucciduto, c'è Paredes. Siamoci la verità, fuori dei dinti è stata una delusione grossa secondo me quella di Paredes fino a questo momento. Non credo nemmeno che ci saranno margini di miglioramento proprio perché in Paredes non vedo quella scintilla che dovrebbe far parte di un giocatore professionista, a maggior ragione di un giocatore che non è titolare, ha perso il posto da titolare, che all'inizio aveva ottenuto probabilmente per status e non ha nemmeno possibilità di essere scattato in questo momento. Quindi dovrebbe fare di più per mettere in difficoltà la società, per indurla in tentazione a evitare un riscatto. Questo riscatto sembra molto lontano. E io sono molto deluso da Paredes principalmente proprio dal punto di vista proprio umano, quindi di comportamento. Sono i miei due centesimi. Ieri durante l'allenamento c'è anche una clip che ha diffuso Romeo Agresti su Twitter nella quale vediamo Vlaovic intento a migliorare il suo gioco spalla alla porta. Ho sorriso, che adesso mi viene a sorridere perché mentre vedevo la clip mi sembrava un allenamento molto blando, a ritmi ridotti, poco efficace anche per come veniva eseguito, per il grado di difficoltà, di pressione che veniva proposta a Vlaovic. Poi sembravano semplicemente dei passaggi e basta. Credo che Vlaovic abbia veramente a migliorare decisamente di più in quel fondamentale, perché è uno dei principali compiti che viene richiesto alla punta da parte di Massimiliano Allegri. Quindi credo che serviva a fare qualcosa di più in allenamento anche magari più strutturato nei confronti di un giocatore che ha possibilità di crescere mostruose. Oggi pensavo al momento in cui inizia la trattativa per Vlaovic effettivamente l'anno scorso. Prima di quel momento Vlaovic sembrava un'entità inarrivabile per una squadra italiana. No, le italiane non possano neanche provarci, c'è la Premier, c'è l'Arsenal. E tornava questo ritorno dell'Arsenal, che prima voleva Artur, che poi voleva Locatelli, che poi voleva Vlaovic. Erano tutti obiettivi dell'Arsenal, che poi la Juventus è riuscita ad anticipare, a strappare la concorrenza. Pensare che oggi l'Arsenal è lo spauracchio numero uno nell'urna dell'Europa League. La squadra lì davanti in Premier che può andare a vincere il campionato dopo tantissimi anni di astinenza perché è riuscita a costruire. Mi fa anche pensare che probabilmente la Juve si è mossa abbastanza bene in questa direzione sul mercato di alcuni giocatori ricercati anche da squadre come appunto l'Arsenal, che poi storicamente, notoriamente, sono squadre che sul mercato dei giovani vanno a investire tanto. E pensavo anche, tra me e me, tutti questi giovani che la Juventus ha acquistato e inserito all'interno delle squadre giovanili durante queste stagioni, come Huizen, come Hildiz, che ora addirittura dovrebbe essere aggregato all'Under 23, quindi alla Next Gen, per la finale di Coppa Italia. L'anno prossimo dovrebbe far parte, impianta stabile, no? Di questa squadra. E si legge anche di Nonge Buende, che è molto vicino al rinnovo, a quanto sembra, perché altri club sono andati su di lui, si sono interessati al ragazzo, l'Uventus allora vorrebbe blindarlo, proprio perché sta cercando di portare avanti questo lavoro. Questo lavoro, secondo me, che non nasce oggi, non è una cosa immediata, è un lavoro che sta nascendo negli anni e ti sta permettendo, comunque, di poter andare anche ad attingere ad alcuni giocatori direttamente dal tuo settore giovanile, senza bisogno di tornare sul mercato. Infatti, mi fa un po' strano pensare, no? Oggi a Gatti, che arriva la Juventus, nello stesso percorso, scusate, nella stessa finestra di mercato di Vlaovic e di Zaccaria, perché la Juventus ferma Gatti per poi prenderlo a giugno, che era già un giocatore con un'età media abbastanza alta per quella che è stata la valutazione di una decine di milioni di euro. Devo dire la verità, mi aspettavo un Gatti più pronto, poi è ovvio che è la prima stagione in Serie A e quindi non è facile, però mi aspettavo qualcosina di più da parte di Gatti. Purtroppo lo abbiamo visto anche poco, indubbiamente, però mi fa strano pensare che la Juventus sia andata a spendere quella cifra in quel momento, andando anche un po' in controtendenza, se vogliamo, rispetto al compro giocatori pronti. Gatti non lo era per forza di cose perché non ci aveva mai giocato, o comunque giocatori in Serie A nel settore giovanile. Gatti non faceva parte nemmeno di questa categoria, perché era comunque un giocatore classe 98. Quindi un po' particolare col seno del poi, pensando anche a quelle che sono state le spese, le uscite effettive della Juventus negli ultimi anni, questi 10 milioni su Gatti. Parlavamo prima di Arsenal, che è solitamente una squadra che va a investire su determinati profili giovani per poi rivenderli, per poi fare una sorta di squadra che va a autofinanziarsi su nuovi profili. Ci sono tanti esempi all'interno del calcio mondiale. Mi viene a pensare a Borussia Dortmund, che storicamente è sempre stata una squadra di questo tipo. Prendo il talento, coltivo il talento, faccio innalzare la valutazione e poi cedo il talento, un po' come ha fatto anche in Arsenal. Penso che bene o male oggi la Juventus debba ragionare sotto questo punto di vista, perché sappiamo che in Italia il livello del campionato negli anni si è abbassato e tanto, e quindi anche una sorta di ragionamento di questo tipo ti può portare poi alla vittoria. L'abbiamo visto anche negli ultimi anni, banalmente con la vittoria del Milan l'anno scorso, lo stiamo vedendo in questa stagione, in prima battuta con il Napoli, che sono squadre che hanno fatto investimenti di un certo tipo, hanno lavorato sullo scouting, hanno lavorato sulle risorse, hanno lavorato sui giocatori, hanno lavorato sulla crescita interpersonale dei giocatori, partendo dallo staff tecnico, passando poi per le trattative, quindi lo staff dirigenziale, quindi il DS. Credo che la Juventus debba prendere questo stampo in considerazione per il futuro, ne abbiamo già parlato anche in diversi video, e credo che la Juventus l'anno prossimo andrà a ragionare su questi binari, però allo stesso tempo si tiene aperta anche la porta relativa alla Superlega, qualche settimana fa abbiamo parlato ai dieci principi rilasciati da A22 per quello che dovrebbe essere una nuova competizione europea, e al Telegraph Agnelli ha parlato di recente dicendo Ajax, PSV e Feyenoord, come faranno i tifosi da qui a qualche anno a seguire il calcio internazionale se queste squadre non avranno la possibilità effettivamente di vincere ancora per tanti anni. Quindi va a prendere quella parte di squadre, perché l'Ajax, per dire un'altra di quelle squadre, come magari può essere il Benfica, o comunque le squadre che fanno parte di campionati non più di primo pelo europeo, ma che comunque devono sopravvivere e vanno a investire tanto sul talento, però Agnelli dice sì, però a livello internazionale poi si riesce a fare la differenza, perché se penso comunque a una Juventus che possa attraversare, organizzarsi in questo modo, prima di dire focalizziamoci sui confini italiani, perché poi difficilmente arrivi a giocarci davvero qualcosa, a meno che in questa stagione il Napoli può ambire addirittura le prime quattro di Champions, perché basterebbe passare gli ottavi e il prossimo turno, e vedo che comunque ci sono alcune squadre big in difficoltà all'interno della Champions League, penso al Chelsea, che magari uscirà, penso al Liverpool, che magari uscirà, però penso allo stesso PSG, che magari uscirà, e non mi sembra irresistibile, comunque ci sono delle squadre, secondo me, in questo momento, che stanno facendo un po' fatica in Champions, e credo proprio che il Napoli possa avere delle possibilità di passare anche al turno successivo, e vedremo anche Milan o Inter, peccato davvero non essere all'interno della Champions quest'anno, ma ce lo meritiamo, e vedete, poi il Benfica rientra all'interno di quel gruppo di cui stavamo parlando adesso, di squadre che comunque fanno un certo tipo di ragionamento per quanto riguarda la crescita e soprattutto la formazione della società, la sostenibilità della società, e ci ha eliminato dalla Champions quest'anno. È stato bello perché, bello, è stato buffo, perché buffo, è stato strano, perché quest'anno dalla Champions è stato eliminato dai due estremi, dalla squadra dello sceicco, che non gliene frega niente, bisogna prendere i più forti, i nomi, le figurine, le mettiamo insieme, e la squadra del coltivo il talento, faccio vedere attraverso il gioco, faccio vedere attraverso il lavoro, faccio vedere attraverso il risultato che viene poi fuori di conseguenza. Quindi noi siamo stati macinati da queste due squadre, paradossalmente siamo stati molto più vicini al successo con il PSG, nelle due partite con il PSG mi sono sentito più vicino al livello del PSG, piuttosto di quanto non mi sia sentito vicino al livello del Benfica, e infatti addirittura pensavo che il Benfica potesse passare decisamente tranquillamente come primo il girone, come poi è accaduto, ma per un discorso di differenza rete, anche perché il PSG è stato un po' pigro. Quindi vediamo che cosa succederà, credo che ad oggi la Juventus debba distaccarsi con forza da quelli che sono stati gli ultimi anni, proprio perché sono cambiate un po' di strategie, di priorità all'interno del calcio, in Italia e non solo in Italia, e poi ovviamente vedremo che cosa succederà a extracampo, perché la Juve è fortemente vincolata a questo discorso. Oggi non si gioca, oggi ci si rilassa, e quindi buona domenica, buon pranzo a tutti, noi ci vediamo domani con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Grazie.